Allora, questa ragazza qui, se lo merita perché ha dimostrato di non solo di essere bellissima, e questo l'anno premiata, come ho visto in Italia, ma ha dimostrato negli anni di essere un'attrice, ha lavorato tanto per questo, ma dov'è? Finalmente l'hai detto tu. E quindi sarà una bellissima serie se lo merita, ha lavorato tanto per questo, è stata molto paziente, ha dimostrato di essere umile, quindi brava. Grazie, sono veramente contento di avere questo preghi.